buonasera eh sì sono stato confinato in macchina perché la televisione è alta in casa e quindi bisogna uscire per fare il video l'immancabile video della sera dopo quello fatto oggi su Berardi come ogni volta che si tratta di un giocatore singolo di un personaggio eccetera ho registrato divisioni differenze di vedute ci mancherebbe altro è il bello del confronto io rimango nella mia idea ragazzi che Berardi alla Juventus sarebbe molto comodo mi permette di di sentire nei confronti di chi dice che bella fatica fare il leader nel sassuolo io quando dico che è un leader è ovviamente intendo nel sassuolo poi è chiaro che andare a giocare nella Juve nel Milano e nell'Inter le cose cambiano ma una volta non era leader nemmeno nel sassuolo questo intendevo dire purtroppo il rischio molto spesso è quello di essere fraintesi nel senso di quello che si vuole affermare io non ho prove per dire che Berardi nessuno ha prove per dire che Berardi sarebbe leader anche nello spogliatoio della Juventus no ovviamente come si fa una sfera magica per saperlo assolutamente no nello spogliatoio della Juventus altro ce ne sono di leader o comunque di persone che quando parlano vengono ascoltate ne parlavo oggi con la collega bravissima Katia Nicotra anzi andate pure a iscrivervi al suo canale mi ha invitato a partecipare a una diretta ed è vero Allegri poco tempo fa diceva che nello spogliatoio ci sono persone che magari all'esterno non sembrano avere un peso quando parlano ma in realtà ce l'hanno e ha citato Rabiot ha citato lo stesso Alexandro adesso già immagino i commenti che si faranno su Alexandro però Alexandro è uno di lunga data come uno di lunga data ad esempio è Daniele Rugani se avete prestato attenzione alla conferenza stampa post partita Allegri ha detto è passato attraverso mille difficoltà fischi contestazioni situazioni anche negative ma quando gioca è affidabile si vedeva che giocava da uno che era da otto anni nell'organico della Juventus quindi non ha patito la minima emozione non ha tradito la minima emozione e ha giocato con tranquillità e sicurezza nonostante non giocassi da diverso tempo in questo senso alcuni giocatori possono definirsi leader o se vogliamo usare un'altra parola veterani dal punto di vista professionale e possono anche permettersi di spendere delle parole all'interno di uno spogliatoio pesante come quello della Juventus essere leader o spendere le parole non vuol dire che poi tu giochi tutte le partite da dieci quando vai in campo ok sono due cose diverse uno è un aspetto caratteriale dovuto anche a militanza di lunga data un altro è un aspetto prettamente tecnico che come tale può soffrire di momenti positivi e di momenti meno positivi o addirittura negativi più o meno lunghi il leader non è perfetto quello che segna 25 gol a stagione ci sono attaccanti che fanno un sacco di gol ma che stanno zitti nello spogliatoio comunque non hanno questa prerogativa di parlare con gli altri o di indicare agli altri la giusta via le norme tra virgolette non scritte di comportamento all'interno dello spogliatoio sono due aspetti differenti poi se combaciano beh tanto meglio chi può diventare un leader della spogliatoia della Juventus perché anche l'altro discorso che abbiamo affrontato oggi sempre con Katia Nicotra è la mancanza di un leader o meglio di un faro dal punto di vista tecnico un faro di questa squadra che era abituata ad averne di fari ce ne sono stati più di uno contemporaneamente Pirlo Pogba Marchisio Vidal in questo momento non ce n'è uno tale da definirsi faro ma ce n'è uno che potenzialmente potrà diventare un faro e mi sono permesso di ricordarlo in Niccolò Fagioli che pian piano prenderà il posto di regista perché è già stato provato diverse volte in partitella in quella posizione e pian piano verrà investito ufficialmente di un ruolo che lui ogni tanto si prende in campo andando occupare quella zona lì e scambiandosi di posizione con Locatelli spero che l'abbiate notato ma credo di sì mi sono sempre molto attenti poi dove arriverà Fagioli non possiamo saperlo ma le potenzialità sono tante sono tante ed è un giocatore importante un altro che sicuramente al piglio del leader ed è uno che parla dentro lo spogliatorio secondo me anzi non solo secondo me ma perché lo so è Federico Chiesa Federico Chiesa è uno che ha subito all'inizio lo spogliatorio della Juve vi ricordate se avete visto quella serie su Netflix di quando a un certo punto era nei primi primi giorni che chiesera lì faceva un po le battute a tavola e Bonucci lo mise in riga adesso è lui che si può permettere di mettere in riga magari qualcun altro ok e lui ha le potenzialità del leader o meglio è già un piccolo leader in atto però su chiesa volevo spendere due parole in più per quale motivo? Innanzitutto perché si è visto che un giocatore superiore alla media nonostante contro il Lecce abbia peccato di un pochino di egoismo cioè è ricaduto un po' nel difetto dell'anno scorso ma lì tutta la Juve è tornata indietro ad assomigliare a quella dell'anno scorso ma poi perché nel momento in cui si sta definendo la situazione del contratto nel momento in cui chiesa si è riappacificato con Massimiliano Allegri non che ci fosse guerra prima ma sicuramente non feeling ok naturalmente spunta che a gennaio il Manchester United potrebbe fare un'offerta alla Juventus per portare via Federico Chiesa che è un giocatore sicuramente da premier è sicuramente un giocatore da premier o meglio è un giocatore anche da serie A e ci mancherebbe però per caratteristiche fisiche per corsa per gamba eccetera in una premier ce lo vedrei molto bene però nel momento in cui si celebrano le 100 partite 100 partite di chiesa nel momento in cui si vede in lui comunque un pilastro un possibile pilastro anche negli anni futuri guarda caso salta fuori le voci del Manchester United ma guarda ragazzi miei siamo sempre lì siamo sempre lì alcuni di voi mi hanno chiesto di commentare la questione Napoli plus Valenze o non plus Valenze io sarà perché seguo da tanti anni la Juve e forse un po' ereditato questo modo di pensare non guardo in casa degli altri ci sono organi competenti che potranno eventualmente guardare in casa del Napoli per vedere cosa è successo io personalmente non mi abbasso non mi abbasso a livello di chi ha passato mesi a guardare in casa dell'argomento che trattiamo noi tutte le sere e cioè quattro lettere I U V E ci attacchiamo intus e facciamo il nome completo ci sono gli organi competenti iscrivetevi al canale e ci vediamo domani